Possa l'eredità spirituale di San Carol Wuitiwa continuare a fecondare il grande campo della Chiesa e sostenere il suo cammino nella storia. È l'auspicio che Papa Francesco ha espresso incontrando i membri della Fondazione Giovanni Paolo II. Nel corso dell'udienza il Pontefice ha espresso soddisfazione per tutte le iniziative di carattere educativo portate avanti in favore dei giovani, così come pure per le opportunità offerte a sacerdoti e laici per arricchire la loro formazione e per essere più preparati ad accompagnare le comunità nel confronto con le sfide culturali e pastorali dei nostri giorni. Per questo scopo potete attingere anche dal ricco magistero di dottrina sociale che San Giovanni Paolo II ci ha lasciato e che si dimostra quanto mai è attuale. Basta pensare a una delle parole chiave di questo suo magistero, che è solidarietà, una parola che qualcuno ha forse pensato dovesse tramontare, ma che in realtà conserva oggi tutta la sua forza profettica.